Ciao Umberto, ti seguo in miniera. Spesso ti ho sentito dire che in una situazione fastidistica è sbagliato fare debito. Ieri a Piazza Pulita, Cortarelli ha detto che, da buon che ho rischiato come si è definito, fare debito adesso è necessario per affrontare la crisi. Che ne pensi? Beh, mi dispiace, cioè, nel senso, ecco, anche queste cose qua di metterle etichette. Io non so cosa dirti, però, ripeto, perché cosa fai debito? Ne abbiamo appena parlato. Io non ho nient'altro da aggiungere. Se, appunto, Cortarelli dice che bisogna fare debito adesso, io vi invito a vedere quello che è successo in una crisi dal lato dell'offerta, storicamente. La più vicina è quella, appunto, degli anni 70, le due crisi petrolifere. Noi l'abbiamo sconfitta alzando i tassi, non facendo debito. Quindi, cioè, mi piacerebbe capire come mai Cortarelli dice questa cosa, ma, onestamente, mi interessa fino a un certo punto, perché quando uno si mette un'etichetta per giustificare la propria posizione e non argomenta dal punto di vista tecnico quando potrebbe farlo, a mio avviso personale, non sta facendo l'economista, posto che Cortarelli non è un economista, o meglio, non è un professore più che non è un economista, ma sta facendo il politico, quindi sta facendo la sua mossa da politico. Volete, cioè, nel senso, la sua soluzione è fare debito? Io sono sicuro che a un certo punto noi arriveremo a fare debito. Arriveremo a fare debito? Sono quasi certo che andremo a fare debito. Poi vedremo quello che succede. No? Il problema qual è? E qua la frase che alcuni sul Twitter mi hanno detto, no, tu stai facendo populismo, eccetera, eccetera, perché sapete che sul Twitter la gente risponde, Sì, con dei caratteri limitati, ma anche con parti anatomiche che normalmente si utilizza per altro. Non vi dico per cosa, però. Ecco, il fatto di fare questa scommessa, cioè, io faccio una scommessa e dico, vabbè, secondo me, col debito vinciamo. Ok, storicamente sai che il debito non ha avuto questo grande effetto su situazioni di offerta, ma tu ci vuoi scommettere, contro ogni evidenza. Figo se stai facendo trading, se è il tuo capitale di rischio. Un po' meno figo quando il capitale di rischio sono un po' di persone che rischiano di finire sotto la sole alla povertà. Io onestamente non mi sentirei bene a dire questa robetta qui. Tutto qui. Invece c'è ampia evidenza, perché appunto la stiamo vedendo, che appena tu inizi a fare un minimo discostamento, UK, Germania e quant'altro, i tassi salgano. Cioè, se voi andate a vedere qualsiasi dato, qualsiasi dato ti sta dicendo, non sfidare il mercato. Davvero, qualsiasi dato. E se tu segui il mio Instagram giornalmente, io pubblicherò almeno una cosa come 4-5 grafici abbastanza critici in situazioni completamente diverse, quindi mercati magari non collegati ma scorrelati, in cui c'è molta tensione. Quindi, se Cottarelli se la sente di fare questa scommessa, io sono molto contento, perché io non me la sentirei. Ecco, tutto qui. Quindi, ripeto, non fermatevi semplicemente all'ipsedixit, perché è da buon kinesiano, ma cercate sempre di chiedervi, o meglio, di domandarvi, ma storicamente, quando ci sono state situazioni critiche molto simili, noi com'è che l'abbiamo risolta? Oppure, ma questa soluzione che mi propongono, ha una base condivisa, o comunque un pensiero logico razionale, che si basa su qualche evidenza? Perché se la risposta è soltanto da buon kinesiano? Beh, da buon kinesiano può valere tutto. Cioè, nel senso, io potrei aver detto anche, da buon, cioè, nel senso, quello che dico io è, io non sono mai venuto, o meglio, vabbè, che io sono uno scemo, quindi non valgo un cazzo, però non è quello il tema. Però, immaginatevi Boldrin che vi dice, io da buon amico di Lucas, e comunque ho studiato in certe zone, sono alla St. Louis e quant'altro, quindi, insomma, premio Nobel, sono alla St. Louis, storicamente rilevante, nella questione economica, ho questo amico, quest'altro amico, eccetera, eccetera, e quindi bisogna alzare i tassi. Sì, ok, ma qual è la razza dietro? Cioè, se mi chiede, mi dicesse questa roba, io gli direi, what? No, non va bene, ma mi devi dire qualcos'altro di più, no? A prescindere, magari sono anche d'accordo, ok? Magari sono anche d'accordo con quello che sta dicendo, ma non basta questa roba qua, perché altrimenti, ripeto, non è il parere di un tecnico, ma è il parere di un politico, legittimo, ma sempre di un politico stiamo parlando, ecco. Da buon che lo isiano si è definito da lui, io ti riporto solo quello che ha detto un economista di livello, io non capisco una sega e chiedo a te, fai bene, cioè nel senso, fai bene a dubitare, non a chiedere a me, però chiedi anche ad altre persone, magari che segui nel ramo economico, e chiedi lì, ma secondo te sta roba ha senso? C'è una valutazione, ecco, un'altra cosa che mi piacerebbe vedere, è che non ci si fermasse semplicemente, ah me l'ha detto Umberto, quindi sicuramente è giusto, no, andate anche sulle fonti che vi cito, non fermatevi, eccetera, eccetera, eccetera. Se ti piace quello che facciamo, ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione, ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto, progetto che ha dei costi, e per far fronte a questi costi, il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, con il one to one e altri servizi. Infine, perché manteniamo ciò che promettiamo, con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti, basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon, e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento.